What's up ragazzi e ragazze, eccoci qui e benvenuti al nuovo video oggi stiamo facendo Sanctoom 2 che è in free weekend fino a domenica alle 22 non ci volete scaricarlo, lo fate presto, sono più o meno 2 gigabyte da scaricare è un gioco, un libido fra un tower defense e un FPS in quanto noi giocheremo in prima persona e uccidere a niente remo degli eni che arrivano nelle varie ordate, quindi potremo scegliere fra quattro personaggi possibili che poi vi farò vedere, con tutte le varie armi che si possono sbloccare a seconda dei livelli e dei giochi che fai, con tutte le varie debolezze, forze e variabilità va bene ok 5 indietro un'ottima fermata e facciamo un multiplayer diciamo in uscita non partita partita rapida non c'è nessuno subito insurizzata ma fai qualsiasi prova di forza ok trovo partita ma questo non è un FPS è un errore perso quindi in teoria si spera che non sia lag perché comunque è una specie di FPS quindi sarebbe gradito che non sia lag a questo c'è una parte di novel e tre c'è di manga, fumetti o cosa del genere come vari fumetti allora in teoria ci va a far scegliere il tuo personaggio ho già provato i due questo mi pare che sia il meglio di solito per alcune cose ho provato questo prima e questo questo cosa fa? non lo so prendiamo questo prendiamo questo prendiamo l'arma secondaria prendiamo questa prendiamo le torre facciamo allora serve questa con l'amici pesante e poi questo qui normale accetta si è in questo come stai ho guardiamo a che avete saputo o in questo è tutti come è solito no non 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 ci ma chi è sicuro che mi ha già colpito quelle deficienti che mi ha colpito posso mettere gli altri? ma che fanno? dovrei sapere perché stanno sparando inutilmente cioè se magari mettono anche qualcos'altro non mi direi che ho vettuto fuori della ganna questa lontano che ci fu giocata beh, che sta facendo? allora io penso che la connessione è persa non è iniziata una partita dove sono iniziata? vabbè, non è iniziata una partita se questo è quello che tiene un po' da fuori ora sono dei passi all'host riproviamoci un'altra volta vediamo che sono molto veloci a risolvere invece se perde se viene ucciso questa cosa che vedo qui fail to load che roba è il gioco mi sembra che ha qualche problema comunque allora, io vorrei prepararmi posso prepararmi? se non mi lascio preparare non posso iniziare sono quasi tutti i livelli 4 a parte uno che è il livello 3 che è già pronto e io non posso fare niente ah, grazie molto gentile allora, questa ora vabbè addio non ho scelguità non l'avevo mica fatta eh qui ci dovete tornare lontano e qui ci dovete tornare e qui ci dovete tornare lontano un altro nemico vicino facciamo questo ah accetto ho scelguità ho scelguità un'altra volta mi raccomando fammelo fare almeno montata per buttarmi fuori spero che mi mette quelli non friscono tutti i soldi e non facendo cose inutili come prima ma questa è la cosa questa è la cosa vengono da lì e poi vanno di là quindi non posso fare nient'altro come il solito che qui hanno già fatto tutto quanto io non posso mai mettere le cose ma non è possibile cioè ha messo ha messo le due cose lì devoluti inutili proprio vabbò non posso fare nient'altro ma ti hai finito di mettere quei cose la cosa è qua ok non posso vedere niente hai finito di mettere le cose tu adesso c'è anche Gandalf me lo vattro va bene va bene se si può scusa c'è adesso quindi questo qui questo qui è falsetto in quel modo si può sapere che state facendo? non posso sapere non posso sapere cosa cosa fa? non posso sapere cosa fa? non possono sapere si può sapere non posso sapere Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.